Ehi ragazzuoli qui è VT9 ed eccoci qui tornati in questo nuovo video. Non posso strillare perché è mezzanotte, ho appena finito la live di ieri sera, e ancora non ci credo, non ci credo perché non è possibile. Per chi non è stato ieri in live può aver ben letto dal titolo che è successa una cosa. Prima di iniziare voglio dire che sto cominciando a registrare un video su tutte quante le vostre donazioni, tutti quanti gli sponsor che sono presenti sul canale, per ringraziare un po' tutti quanti e dire anche la mia, dire ciò che penso su tutto questo. È stato anche un piccolo batti becco sulla live di ieri, mi è dispiaciuto per le persone che mi seguivano ed erano anche molto attive. Purtroppo voglio affrontare questo discorso e prima o poi farò questo video dove andrò a parlare di questa cosa e di cosa penso delle donazioni e tutto. Io però adesso sto video, regà, deve essere solo un video che uscivano le lacrime di gioia. Veramente a pensare a una persona ti dona tutti questi soldi, io rimango veramente senza parole, regà. Guardate veramente la mia forza, se non avessi voi io non avrei continuato YouTube. Io ho avuto un periodo molto particolare dove volevo lasciare. Per via del lavoro, per via di tante altre cose che avevo da fare e non avevo il tempo materiale per continuare questa carriera, tra virgolette. Ma queste cose non fanno altro che rendere, rendere felice veramente. Fanno capire quanto posso magari essere anche importante, tra virgolette. quante persone contano su di me e è questo che mi manda avanti. Io ragazzi, ora vi lascio al video, vedete che cazzo è successo e vi ringrazio. Vi ringrazio veramente di tutto, grazie davvero, regà. Dovete trovare il progettore di Biorino. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. No, non è possibile! Sei un pozzo, mi sono venuti le lacrime! No, regà, io ci sono genocchio! Che devo fare? Matteo, posso regalarti il mio canale? Oddio, oddio un attimo, regà. Te devo dedicà... Ti rompo il culo, io rompo. Ti rompo il culo, per te Matteo! Per te Matteo! Oh, 50 euro, regà, ha donato 50! E non c'è la quanta! ... Oh! Oh! Vieni che ha? Boni! Matteo, per te! Per te, Matteo! Per te, Matteo! Per te, Matteo! Per te! Madonna! Riga, siamo partiti quattro contro due, abbiamo rotto il culetto. Per te, Matteo! Vieni a passo! Vieni a passo! Grazie a tutti.